Sono Cristiana Costantini, ho 53 anni, faccio l'insegnante di scuola primaria elementare da 30 anni, insegno nella scuola Longhena, è la prima volta che mi candido e mi metto in politica ufficialmente, invece c'è circa 20 anni che mi impegno come cittadina attiva, ho fatto tante battaglie, prima abitavo nel centro storico che però adesso è stato inglobato in questo quartiere, da settembre abito sempre in Santo Stefano ma non più in centro storico, comunque sono sempre qua, insomma ho cominciato da subito a impegnarmi in prima persona, ho capito che se si vogliono cambiare le cose bisogna metterci la faccia, darci dentro, non mollare mai, continuare a combattere finché non si riesce ad ottenere qualche risultato, per cui penso che sia molto molto importante impegnarsi sempre, continuare a portare avanti le proprie idee, mi sono molto impegnata sul discorso della salute, della mobilità sostenibile, ho fatto le battaglie per accendere il sirio in centro, per combattere l'inquinamento che è invisibile ma è molto forte, vorrei una città migliore, in questi 5 anni secondo me l'amministrazione ha lavorato bene, ha cominciato a mettere in moto la città, ha cominciato a fare tante cose però ha bisogno ancora di tempo per andare avanti e portare a buon filo i progetti, secondo me c'è tanto da fare, io spero che il quartiere possa lavorare ancora meglio per migliorare tutte le zone, le aree, renderle più belle, più pulite, curarle di più, sono importanti secondo me i grandi progetti ma anche le piccole cose, anche i marciapiedi, le buche in strada, sono le cose che ci fanno vivere meglio la nostra vita quotidiana.